I lavoratori Enel impiegati all'interno della centrale di Cerano sarebbero stati e sono tuttora esposti all'amianto all'interno della Federico II, circostanza di cui l'azienda elettrica sarebbe a conoscenza ma che nega ed esclude presenza di amianto nell'impianto termoelettrico. A denunciare quanto avete appena sentito il vice segretario generale della OS CISAL di Brindisi, segretario regionale CISAL Federenergia con delega al settore elettrico della Puglia, componente RSU ed RLS della centrale Enel Federico II, Angelo Petraroli di Ostuni, firmatario di un esposto inviato alla Procura della Repubblica nel quale sono esplicitamente indicate le responsabilità di Enel nei confronti della situazione amianto in centrale. Nell'esposto si legge premesso che la società e nel rilascio dei curriculum ai dipendenti della centrale Federico II sostiene di non aver esposto in nessun caso i lavoratori a rischio amianto e che a fronte di ciò la maggior parte dei lavoratori non ha formulato all'INAIL la domanda amministrativa per il riconoscimento dell'amianto e quindi ad oggi non possono produrre un ricorso giudiziario in tal senso si evidenzia che invece la presenza di amianto nella centrale Federico II è concreta, veritiera e dimostrabile e risale sin dai tempi della sua costruzione. Non solo ma dalla evenienza derivante dalle azioni lavorative e dalle documentazioni esistenti, prosegue l'esposto, si è infatti rilevato una notevole presenza di amianto cui i lavoratori sono stati inconsapevolmente esposti con l'aggravio del comportamento lesivo della società committente ENEL che non ha creato le condizioni lavorative qualora queste lo richiedevano atte alla salvaguardia della salute e alla sicurezza dei dipendenti diretti e dell'indotto. È risaputo e contestato infatti che laddove occorre operare in alcune particolari condizioni è necessario mettere in campo tutti gli accorgimenti di legge e non invece sottacere e poi passare le condizioni di rischio e pericolo. Nel pesante esposto Petraroli indica anche in quali punti della centrale si troverebbe l'amianto. Zona turbina, riscaldatori di alta e bassa pressione, tubazioni di collegamento turbina, filtri e guarnizioni di vari serbatoi come degasatore, pegging e tenuta turbina, zona passi duomo turbina e caldaia, tubazioni ceneri pesanti e leggere dalla caldaia ai sili, tettoie parco bombole, coperture e capannoni vari e ancora canaline, posacavi, componentistiche, interruttori dei kilowatt e di vari strumenti di misura come i livellostati, parti di sottopavimenti di alcuni metri quadri, guarnizioni e accoppiamenti, impianti antincendio, freni e cuscinetto dei mezzi di sollevamento come i carri ponte, i paranchi e ancora freni a motore di blocco delle grandi macchine operatrici. Nelle conclusioni Petraroli evidenzia come a fronte dell'annegazione della presenza di amianto da parte dell'azienda si è impossibile capire ad oggi qualora si è comprovata la presenza tempistiche e modalità di smaltimento di questo pericoloso materiale. Infine, all'interno dell'esposto, la preoccupazione per gli attuali lavoratori. Appare ovvio dedurre che la negazione forzata ed insistita di amianto nel sito della centrale ha potenzialmente esposto e forse prodotto effetti lesivi per le persone che hanno operato con frequenza sino ad oggi. In conclusione, chiude l'esposto, rispetto a quanto richiamato, il sottoscritto auspica gli opportuni accertamenti sulla questione narrata alla fine di valutare gli eventuali profili di illecità dei fatti e individuarne i possibili responsabili procedendo nei loro confronti. Si attenderà quindi ora la mossa della Procura della Repubblica ed una eventuale risposta dell'Enel a queste pesanti accuse.